È stato un pittore di calibro internazionale e fece di Stazzema il suo rifugio di tranquillità e di creazione estiva. Oggi Stazzema celebra Filadelfo Simi. Questo busto di gesso è stato realizzato dallo scultore Dino De Ranieri e sarà esposto dall'11 luglio per tutta l'estate nella casa studio Simi, restaurata e recuperata da due cittadini che ne intendono fare un luogo di cultura aperto a tutta la comunità. Filadelfo Simi fu un pittore europeo e la sua scuola a Firenze rinomata in tutto il continente. Nei mesi estivi la scuola si trasferiva da Firenze a Stazzema nello studio in località Scala. Qui Filadelfo dipinse molte sue opere importanti. Attorno allo studio si creò un cenacolo culturale che non solo attrasse giovani che volevano imparare, ma eminenti artisti di tutto il mondo. Il recupero di questo luogo, grazie alla passione di Maurizio Bertellotti e Moreno Gerardi, è un momento importante per la comunità stazemese. Lo studio che riaprirà intanto sabato 11 luglio con l'inaugurazione dell'inizio del recupero è una mostra che si svilupperà nelle settimane estive e poi chiaramente riprenderanno a ottobre le opere e gli interventi per il recupero interno anche di questo edificio di grande importanza per la cultura di Stazzema.